Il Consiglio Comunale di Penne, nella seduta dello scorso 22 aprile, ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023, votato all'unanimità da tutta la maggioranza, mentre nei gruppi di minoranza c'è stata l'astenzione del Movimento 5 Stelle. All'interno di questo bilancio tante manovre a partire dalla riduzione della pressione tributaria per quanto riguarda la Tari, riduzione dal 30 al 50% nella parte variabile per le attività produttive, oltre ad agevolazioni per le utenze domestiche per chi è in difficoltà. Sono previste inoltre nuove assunzioni da parte dello stesso ente comunale. Per l'amministrazione Semproni si tratta del sesto bilancio, quindi una manovra finanziaria che porterà benefici, in particolare per la manutenzione del patrimonio comunale, del verde pubblico e per le delizie scolastiche. Soprattutto abbiamo previsto anche assunzioni. Due nuove figure saranno inserite nell'ufficio tecnico e soprattutto nell'area urbanistica, proprio per rilanciare quest'ufficio in virtù del fatto delle nuove proposte che arrivano dallo Stato, come il 110, ma anche altre iniziative legate all'aspetto sociale. Abbiamo incrementato la spesa per il sociale ed altre iniziative che saranno appunto messe in campo per migliorare la città. Quello votato è stato l'ultimo bilancio dell'amministrazione guidata dal sindaco Mario Semproni. Il primo cittadino non ha ancora preso decisioni sulla sua ricandidatura in vista delle prossime amministrative, ma è lo stesso Gilberto Petrucci a fare una prima disamina di questi cinque anni. Siamo riusciti attraverso una manovra strutturale a ridurre il debito commerciale, il deficit finanziario e soprattutto abbiamo eliminato tutte quelle passività che ingessavano il bilancio. Oggi la parte corrente è tornata in equilibrio, siamo soddisfatti e grazie a questa manovra siamo riusciti a pianificare nuovi interventi sulla città come la manutenzione, nuove marciapiedi, verde pubblico e poi abbiamo intercettato ben oltre 14 milioni di euro di opere pubbliche come ad esempio interventi straordinari per l'impiantistica sportiva, l'edilizia scolastica e la manutenzione del patrimonio viario, in particolare la riduzione del dissesto idrogeologico.